Il forum di ieri è stato un momento di condivisione di alcune situazioni che si sono create durante il lockdown per la cura e la gestione dei pazienti che si restano fuori regione per assicurare. Ieri sono stati portati degli eventi di buona pratica, nati spontaneamente proprio per l'emergenza, come ad esempio una rete spontanea tra i vari clinici per la gestione di questi pazienti. Quindi abbiamo potuto verificare se è tutto possibile quando si vuole essere tutto possibile, pertanto oggi ci auguriamo che queste pratiche nate spontaneamente possano poi essere istituzionalizzate per una migliore qualità della vita del paziente, anche perché curare il paziente nella propria regione significa anche oltre che aiutare il paziente ad una migliore qualità della vita, anche ad abbassare i costi della sanità. Pertanto questi studenti potrebbero essere, potranno essere un motivo per capire come meglio gestire la migrazione sanitaria.